ciao benvenuti in un nuovo video del nonno oggi parliamo di calata a corda doppia qui abbiamo l'attrezzatura di qua dietro le mie spalle abbiamo la parete sto guardando dove poter fare una sosta comoda per poter girare questo video questo come tutti gli altri video è un video di condivisione della mia passione per la montagna sarete voi quindi a trovare l'errore se errori ci sono nella mia calata si può aprire un dibattito molto costruttivo come se si fosse di persona davanti a un piatto caldo in un rifugio ok scegliamo insieme i materiali guardiamo cosa potrei usare per fare questa calata corda doppia questa è l'allongia che utilizzo di solito io per aumentare oggi la difficoltà proprio nel video che ci potrebbero essere maggiori errori utilizzo la daisy chain la daisy chain lì e per renderla un po più old school invece di utilizzare questi nuovi strumenti potrei utilizzare questa piastrina quindi piastrina e vai con un cordino per fare un machard ovviamente casco e un brago che ora indosserò eccoci come per magia attrezzatura indossata ho fatto praticamente una sosta aiutato da una fessura nella roccia ora mi raccomando che attenzione e commenta se noti degli errori alla prossima Controlla bene la sosta e occhio a questi passaggi. Commenta se hai notato un errore o anche se hai dubbi. Grazie per la visione! Nel tuo commento puoi mettere per comodità il tempo. Ti faccio un esempio al minuto 1 e 39 hai fatto questo errore. Musica Sono tenute bene, ovviamente è un po' difficoltoso. Importantissimi sono i tuoi commenti, solo così questo video può diventare veramente utile. Per il momento un grande abbraccio e buona montagna a tutti. Musica 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 Musica